fallimento se aprissimo il vocabolario sotto la voce fallimento troveremmo definizioni come esito negativo clamoroso insuccesso ma è davvero così fallire ti permette di valutare esattamente cosa non ha funzionato e come migliorarti l'aggrapparsi alla speranza e le promesse altrui e può essere una scelta molto dannosa tirarle fuori da questa situazione di sovraindebitamento le porta a essere nuovamente una risorsa per la società e la depressione è stata altamente correlata non soltanto al fallimento ma anche a tutte quelle emozioni che sono conseguenziali al fallimento tutta gente che se non può lavorare per forza di cose si deve indebitare in tutto il mondo veniva applicata questa legge è una legge che esiste da sempre è appunto una legge di civiltà è strano che a dieci anni dall'introduzione ancora non ci sia la dovuta informazione questa legge si chiama la legge salva suicidi fallire non è sbagliato